C'è questa polemica semplicemente allucinante, semplicemente ridicola e semplicemente vomitevole che riguarda la mia vaccinazione di due giorni fa presso il centro affari di Arezzo. Vaccinazione che era lecita, che era autorizzata, che era legale sotto tutti i punti di vista e che rifarei ora, domani, sempre. Vaccinazione che ho fatto e per la quale, secondo me, larga parte degli italiani avrebbero dovuto ringraziarmi perché l'ho fatta. Perché l'ho fatta in un momento storico in cui nessuno avrebbe voluto fare, appena ripresa la vaccinazione AstraZeneca, nessuno o quasi avrebbe voluto fare AstraZeneca. E io ho voluto accettare l'invito che mi è arrivato in tarda serata di vaccinarmi proprio perché volevo dare un segnale agli italiani e volevo dire agli italiani ragazzi, io rischio perché mi fido della scienza, perché mi fido di Galli, mi fido di Crisanti, ho questa possibilità, come tutti ce l'avevano e ce l'hanno, tutti, e ci vado e mi faccio vaccinare. Sebbene, tranne la mia compagna Sara, delle persone che avevo attorno non ce n'era uno che mi diceva di andarci. Uno, tutti a dirmi, aspetta Johnson, aspetta Moderna, che magari te lo rifanno fra un po', aspetta Pfizer, aspetta che sia più sicura AstraZeneca. Non era un boccone da ghiotti, venerdì sera, prima che chiudesse il centro affari, fare AstraZeneca. Era una cosa che per me era tranquilla, perché io mi fido della scienza, ma non c'era un esercito dietro di me che lo voleva fare. Sia perché non lo volevano fare AstraZeneca, sia perché nessuno sarei scritto a quella lista che esisteva, era verbale, e poi vi spiego com'era, ma l'ho già scritto, e che grazie a me e al mio posto di venerdì sera, da ieri è diventata...